La chiesa del santuario di San Pasquale di Bailona, San Giorgio di terra roveresca era gremita di gente oggi pomeriggio per il funerale di Paolo Pedini Boni, il cameriere di 41 anni trovato morto nella notte tra lunedì e martedì scorsi sulla scalinata in via Vitruvio nel centro storico di Fano. Tantissima gente proveniente sia da Fano che da Urciano oltre che dal posto essendo la famiglia residente a meno di un chilometro dalla chiesa che lo stesso Paolo da giovinetto frequentava. Per consentire alla folla intervenuta di seguire la cerimonia sono stati posizionati anche altoparlanti all'esterno della chiesa. Una cerimonia raccolta e composta a cui le parole di Don Giacomo hanno fatto da contraltare citando nell'Omelia la parabola della resurrezione del figlio delle vedova di Nain, anch'essa come la famiglia di Paolo più volte colpita dal dolore per la perdita di un suo caro. A cui le parole del Vangelo oggi come allora danno un senso e Don Giacomo esortando come fece Gesù a non versare lacrime e dal giovinetto ad alzarsi rivolto ai genitori e dal fratello di Paolo invita a non gettarle a terra le lacrime perché diventano fango e gli uomini non le sanno raccogliere mentre se le rivolgiamo al cielo diventano stelle e il nostro Signore le coltiva e le rende fertili così come un santuario d'amore dove ora si trova Paolo. Nella chiesa a stringersi attorno al dolore della sua famiglia anche tanti amici di Paolo, la compagna e di colleghi di lavoro che ancora oggi non sanno darsi pace per questa morte così improvvisa ed inattesa che ha lasciato tutti con il cuore in sospeso e che ora attendono dal risponso dell'autopsia e dagli esami tossicologici che devono ancora essere prodotti risposte per dare un senso a questa perdita ma in base ai primi accertamenti effettuati l'ipotesi prevalente rimane quella di un malore improvviso. La morte prematura del 41enne descritto come un uomo in perfetta salute aveva destato fin da subito sconcerto in città e tanti oggi anche chi lo aveva conosciuto solo fugacemente o come cliente ha voluto dimostrare affetto e vicinanza alla famiglia e agli amici di Paolo tant'è che la piccola chiesa non è riuscita a contenere tutte le persone che erano intervenute.